Dopo il 31 dicembre 2023 il super bonus sarà più magro, si ridurrà al 70%. Le regole in vigore dal 17 febbraio scorso restano, dunque non c'è possibilità di applicare lo sconto in fattura. La cessione dei crediti rimane vincolata alle situazioni già previste dalla legge. La strada principale da seguire resta sostanzialmente la detrazione diretta nel 7.30. Dobbiamo sopperire a queste cose che ridurranno sicuramente il PIL e la forza trainante del super bonus. Il super bonus tutti quanti hanno riconosciuto che era una grande cosa per il PIL italiano ed era una cosa che dava finanza anche allo Stato italiano. Purtroppo Draghi nelle sue performance in cui ha dato soldi a pioggia nelle leggi, nelle finanziarie dell'anno scorso, dell'anno precedente a questo governo si è speso tutti i soldi che sono rientrati dal super bonus e oggi Giorgetti a malincuore deve dire che i soldi non ce l'ha. L'Abruzzo intanto è sceso in campo con una legge approvata dal Consiglio regionale il 18 ottobre scorso che concretamente coinvolge società partecipate o controllate nel meccanismo dell'acquisizione dei crediti. Oggi dobbiamo riconoscere che purtroppo la legge è soltanto sulla carta perché ahimè intanto ha pochissimo plafond e quindi risulterebbe una goccia in questo mare ma soprattutto perché poi c'è la farroginesità e soprattutto poi c'è il fatto che gli enti che dovrebbero ricomprare, gli enti partecipati alla regione che dovrebbero ricomprare questi crediti sicuramente non hanno liquidità e quindi si dovrebbe spalmare l'acquisto dei crediti in 4 anni e se noi pensiamo soltanto ai 12 milioni che hanno annunciato 12 milioni in 4 anni significa 3 milioni l'anno. Però diciamo ancora grazie alla regione, un grazie forte perché è di stimolo soprattutto verso il governo centrale a dire noi ci siamo, ci stiamo muovendo, non ce la facciamo da soli dovete intervenire per poter salvare tutti quegli incagli ma soprattutto tutte quelle liti che nasceranno tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo tra i due tartassati da questo cambio di leggi e cioè i cittadini e le imprese.